Tutti gli strumenti di democrazia partecipata, le sperimentazioni in materia sono importanti soprattutto in questo momento e in cui sembra che la politica ritenga che nel momento in cui ottenga il consenso possa andare per la propria strada senza più confrontarsi con la politica. È un cambio di passo fondamentale se potremo veramente guardare al futuro del Paese e affrontare problemi complessi come la crisi climatica.